Pronto? Pronto! Coppa! Sì, sì, sì. Ancora. Oddio. Sì, sì, è lui, è lui. Sì, lo so che non ti pare vero. È lui, è lui. È una fede, sì. Eh, lo capisco, è una fede. È lui, è lui. Il più grande cristiano che si chiama lui. Sì, è lui. Sì, compa, gli vedi fare cose che nessun altro... Sì, sì, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. E lui, sì. 33 anni. Sì, compa, 33 anni. È lui, è lui. No, 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 compa. Camminare sull'acqua no, compa. Quello è un altro. Sì, è cristiano che è quello. Ma è un altro. No, sull'acqua no.